Le tessere delle associazioni di categoria buttatele via perché non servono, l'hanno dimostrato, la parola mani legate mi sta uscendo dalle orecchie, i sindacati che non hanno mosso un dito per le casse integrazioni che non sono state date neanche di novembre, si riempiono la bocca parlando di blocchi di licenziamento, i costi del lavoro li abbiamo noi sulle spalle.